Tutti noi auguriamo la massima felicità al nostro cane, ma come possiamo sapere se è felice? Oltre a scodinzolare, i nostri amici a quattro zampe hanno altri modi per trasmettere le proprie emozioni, ad esempio attraverso le posizioni del corpo. In questo video di Animal Pedia vi mostriamo 10 posizioni che indicano che un cane è felice. Da non perdere! Invito al gioco Poche volte si può essere tanto sicuri che il cane è felice come nei momenti in cui gioca. Le condotte di gioco presentano diverse posture tipiche, tra cui una delle più classiche è la posizione di invito al gioco. Il cane solleva la parte posteriore del corpo, mentre abbassa quella anteriore e stira le zampe anteriori in avanti, mentre fissa un altro cane o il suo umano. Si appoggia su di te Spesso vi sarà capitato che il cane vi si appoggi contro. Questo è un chiaro indizio che il cane vi vuole bene e che sta bene accanto a voi. Insomma, il cane è felice. Si rotola nel prato Un'altra posizione classica di assoluta felicità è quando il cane si mette a pancia in su e struscia la schiena sull'erba del prato, freneticamente. Quest'azione lo aiuta a rinfrescarsi nei periodi più caldi e anche ad attirare l'attenzione del loro umano. Ti si sdrai al lato Anche se di solito non sembra sia una posizione che dimostri che il cane sia felice, ma piuttosto che è solo rilassato o a suo agio, in realtà vi sbagliate. Questa è la posizione che più di ogni altra dimostra il momento di benessere che sta sperimentando il vostro cane. Guarda anche il video sulle posizioni di un cane quando dorme e il loro significato. È euforico al momento di uscire a passeggio. Se avete un cane, avrete spesso sperimentato come al momento in cui date dei segnali di uscire di casa, il cane è preso da uno stato di iperattività ed euforia, incapace di contenere la sua voglia di uscire e fare una passeggiata. Si sdraia a supino Quando un cane si mette a dormire a pancia in su, significa che si sente sicuro e protetto nell'ambiente in cui vive, per cui si permette di dormire lasciando esposte le sue parti più vulnerabili. Il tuo cane sorride Molti amanti dei cani ne avranno visto almeno uno una volta che sorride. Possiamo riconoscere questa espressione quando notiamo che gli occhi del cane sono ben aperti e rotondi, le orecchie sollevate, non inclinate né in avanti né indietro e la bocca leggermente aperta senza mostrare i denti. A questa espressione del muso si associa una posizione rilassata e un movimento nervoso della coda. Si sdraia con te Altra posizione che dimostra uno stato di relax e felicità è quando il cane si distende, insieme al suo tutore, sulla pancia con le zampe anteriori allungate e la testa fra le zampe, guardando attorno a sé oppure leccandovi le mani o la faccia. Si ferma quando state giocando Quando un cane corre con un altro cane e si rincorre a una vicenda, ad un certo punto il vostro cane si ferma qualche istante, con lo sguardo perso nel nulla, ansimando in un miscuglio di eccitazione, stanchezza ed allegria. Non vi è dubbio che questo sia uno dei momenti più gradevoli attesi della giornata per il vostro cane. Si mette in posizione d'agguato Se avete osservato i cani giocare insieme e avete notato che a volte uno dei due si nasconde o si accuccia in posizione di agguato e fa la posta all'altro cane che corre, spesso poi i ruoli si scambiano ed il gioco continua. Per cui la posizione acquattata è sicuramente una posizione che dimostra un cane felice, spensierato, che gioca con i suoi simili. Dicci, il tuo cane come ti dimostra che è felice? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima! Alla prossima!